Anticipazioni Terra Amara, la serata del fidanzamento organizzato da Sermin è finalmente arrivata. L'evento si svolge con fasto ed eleganza, con numerosi ospiti tra le persone più influenti, tra cui Gulten e Cetin. Betul e Fikret sono seduti a un tavolo, lui con un'espressione molto seria. Betul nota che sta bevendo e che spesso guarda Zuleya, che nel frattempo intrattiene gli ospiti. Sermin, gonfia di orgoglio e soddisfazione, accoglie gli ospiti insieme a Luce. All'ingresso, compare il sindaco in compagnia di Akan. Quando Fikret lo vede, si irrigidisce, e Luce, notandolo, si avvicina. Il sindaco informa Fikret che ha invitato Akan, sperando che non gli dispiaccia. Fikret inghiotte il rospo e risponde negativamente, stringendo la mano di Akan. Poco dopo, il sindaco dà inizio al rito del fidanzamento, facendo indossare ad Fikret e Betul gli anelli legati dal nastro rosso. Tagliando il nastro, augura loro una vita felice. Mentre Betul è al settimo cielo, il volto di Fikret rivela altro. Nel frattempo, Akan e Zuleya ridono e scherzano, con Akan che guarda Zuleya incantato. E naturalmente, Betul lo nota. Iniziano le danze, aperte dai due fidanzati. Betul dice a Fikret che ora sono fidanzati e che renderà molto felice lui. Fikret annuisce e guarda Zuleya. Nel frattempo, mentre Gaffur, Sanie, Rashid e Fadik sono impegnati in un gioco da tavolo. Un uomo mascherato si introduce nella villa senza essere notato e si dirige nella camera di Zuleya. Toccando le sue cose e rovistando tra i cassetti. Mentre Gaffur si dirige verso la cucina per placare la sua fame insaziabile, percepisce un rumore proveniente dall'alto. Convinto che sia minne e preoccupato che qualcosa possa andare storto, si avventura a salire per raggiungerla. Nel frattempo, un uomo dal comportamento maniacale sta esplorando tutti gli oggetti personali di Zuleya. Alla notizia dell'avvicinarsi di Gaffur, l'uomo esce dalla stanza con una scarpa di Zuleya in mano, gli si para davanti con un coltello, lo ferisce alla coscia e fugge. Gaffur inizia a urlare, attirando l'attenzione di tutti, e racconta loro di un ladro con cui ha lottato, ferendolo con un coltello. Poi grida di essere vicino alla morte e sviene per la paura. Nel frattempo, il ladro, che si rivela essere va appossessionato da Zuleya, riesce a raggiungere la sua auto indisturbato. Si toglie la maschera, annusa la scarpa rubata e si allontana. Nel circolo, la festa prosegue con musica e balli, ma viene bruscamente interrotta dall'arrivo di Rashid, che avvisa Zuleya dell'incidente alla villa. Gaffur è stato ferito e si trova in ospedale. Zuleya chiede scusa e se ne va seguita da Akan, mentre anche Fikret la segue. Sorpreso e sconcertato, Luce riesce a fermare Fikret, insistendo affinché rimanga con la sua fidanzata. Nel frattempo, in ospedale, Gaffur esagera le sue ferite, urla e piange, elencando le sue ultime volontà. Tuttavia, il medico rassicura Sanye che si tratta solo di una ferita superficiale che guarirà in pochi giorni. Zuleya, Gulten, Cetin e Akan arrivano per mostrare il loro sostegno a Gaffur. Quando Zuleya si avvicina a Gaffur, lui inizia una delle sue sceneggiate drammatiche, mentendo sul suo supposto scontro con i ladri. Tuttavia, tutti sono consapevoli della verità e Zuleya se ne va immediatamente. Sanye fa un gesto a tutti affinché tacciano, e con un'espressione triste comunica a Gaffur che la situazione è seria e che sarà necessario amputargli la gamba. Gaffur inizia a protestare, chiedendo un secondo parere medico e assicurando che la sua gamba sta bene. Si alza in piedi affermando di aver perso solo tre gocce di sangue. A questo punto, Sanye gli chiede il motivo delle sue lamentele, dato che lo ha preoccupata per nulla, essendo lui in perfetta salute. La situazione diventa comica, e tutti ridono. Nel circolo, la festa giunge al termine e gli ospiti si congedano. Sermin è felice per il successo della festa. Tuttavia, Fikret annuncia che deve andare a controllare le condizioni di Gaffur e se ne va con la zia. Sermin si infuria e rimprovera Betul perché Fikret l'ha lasciata per correre da Zuleya. Betul risponde che non le importa perché lei e Fikret sono fidanzati e si sposeranno presto. Zuleya e Akan sono alla villa insieme alla polizia che sta indagando sull'incidente. Zuleya segnala che sembra che non sia stato rubato nulla, e un agente ipotizza che il ladro sia stato disturbato dalla presenza di Gaffur. Luce e Fikret arrivano alla villa, e Fikret, vedendo Luce in compagnia di Akan, le offre il suo aiuto, saluta e se ne va. Akan, desideroso di inviare due dei suoi uomini alla villa, viene informato da Zuleya che ha già raddoppiato la sorveglianza. Prima di andarsene, le dà un bacio sulla guancia proprio quando arriva Luce. Nonostante ciò, entrambi le sorridono, e Akan saluta Luce prima di andarsene. Gaffur torna dall'ospedale lamentandosi del forte dolore e chiedendo cibo continuamente. Sanye si reca in paese per acquistare le medicine, e durante una conversazione della farmacista con una cliente riguardo al fidanzamento, Sanye menziona che Sermine è riuscita a convincere Luce, lamentandosi del presunto smarrimento dell'onore della figlia e manifestando diffidenza nei confronti di Betul, poiché è la figlia di Sermine. Aggiunge che quando la signora Unkar era viva, conosceva bene Sermine e non le permetteva di entrare nella sua casa. Le due donne concordano sul fatto che Sermine si fosse sempre comportata male con la signora Unkar. Luce è con Fikret e gli chiede se ha riflettuto sulla sua proposta di trasferirsi a Istanbul per iniziare una nuova vita lontano da Zuleya, poiché rimanere lì le causerebbe solo sofferenza, e lei non desidera che ciò accada. Fikret risponde di essere d'accordo, poiché i suoi sentimenti non sono svaniti, e non vuole più soffrire. Pertanto, lascerà Kukurova. Zuleya arriva in azienda, e la segretaria le consegna un pacco appena arrivato in una bella scatola. All'interno trova un astuccio in velluto che contiene una splendida collana di brillanti. Il biglietto che l'accompagna è di Akan, il quale le scrive che deve dirle una cosa molto importante e l'aspetta quella sera nel loro solito ristorante. Kadir si incontra con Akan e gli comunica di accettare la sua proposta. Akan afferma che darà istruzioni ai suoi avvocati per avviare le pratiche. Poi gli rivela che ovunque andrà, sarà un uomo ricco e senza preoccupazioni. Kadir, tuttavia, gli dice che rimarrà a vivere a Kukurova, poiché è il paese in cui è nato. Akan accetta a condizione che Kadir non lo infastidisca. Kadir lo avverte che Zuleya scoprirà la sua vera identità, anche se lui non sarà a rivelarglielo. Più tardi, Kadir trova Vaap nella sua auto, il quale lo avverte che non lascerà Kukurova solo perché Akan lo desidera. Kadir gli urla che è lui che vuole che Vaap se ne vada. A questo punto, Vaap gli dice che se ne andrà solo se gli dirà cosa Akan tiene in mano e che potrebbe rovinare entrambi, poiché lo aiuterà a trovare una via d'uscita. Kadir risponde di possedere prove che possono far condannare Akan a morte e ora deve andarsene, raccomandandogli di prendere le sue medicine. Mentre Zuleya si sta preparando per la serata con Mehmet, Luce la raggiunge e le confida di doverle dire qualcosa, preoccupata di non volerla offendere. Le dice che è suo diritto cercare la felicità, ma è preoccupata che la sua relazione con Mehmet stia procedendo troppo rapidamente e teme che Zuleya possa rimanere delusa. Zuleya risponde che ha ragione, capisce la sua preoccupazione, ma Mehmet è una persona meravigliosa che la rende felice e le assicura che sarà prudente. Zuleya raggiunge Akan in un ristorante con una grande terrazza. Vestita splendidamente in un tubino di raso celeste e con la collana di brillanti al collo che Akan le ha regalato, Zuleya colpisce Akan con la sua bellezza. Akan le dice quanto sia bella, notando che indossa la collana, e le chiede se le piace. Zuleya annoisce e lo ringrazia. Akan le comunica che deve dirle due cose e, guardandola negli occhi, le offre l'anello che ha acquistato a Mersin, chiedendole se vuole sposarlo. Zuleya, sorpresa, esita, poi gli chiede se stanno procedendo troppo velocemente. Entrambi si avvicinano alla balaustra, senza rendersi conto che Vaap, nascosto tra gli alberi del giardino, tiene un fucile puntato su di loro. Akan le assicura di voler passare il resto della sua vita con lei, rendendola molto felice. Zuleya, a questo punto, gli sorride e accetta la proposta. Felice, Akan le infila lo splendido anello al dito mentre sono ancora sotto la mira di Vaap. Poi, Akan le rivela che il suo vero nome non è Mehmet Cara, ma in quel momento, Vaap spara, colpendo Zuleya alla testa. La donna cade a terra mentre Akan si inginocchia accanto a lei, sconvolto e accarezzandole il viso. Terminano così queste anticipazioni. Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!